ciao claudia ciao giovanni l'ultima volta abbiamo parlato di mutui consap e green so che ci sono delle novità importanti riguardo e mutui green vuoi raccontarcelo certo giovanni facciamo un breve ripasso il mutuo green è un finanziamento pensato per l'acquisto di case con classe energetica a o b oppure per la ristrutturazione di immobili con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale interessante ma quali sono i vantaggi concreti per chi sceglie un mutuo green in sintesi il mutuo green a costi inferiori rispetto ai mutui tradizionali le banche offrono queste soluzioni a tassi agevolati per incentivare l'acquisto o la ristrutturazione di case ecologiche ma perché le banche sono così interessate a favorire questo tipo di mutui ottima domanda ci sono diversi motivi da un lato l'unione europea sta spingendo molto verso una transizione green l'obiettivo è ridurre le emissioni di co2 e rendere il nostro patrimonio immobiliare più sostenibile le banche che promuovono i mutui green ottengono spesso incentivi e agevolazioni per supportare questi progetti quindi è una questione anche di normative europee esatto l'europa ha fissato delle direttive molto precise per migliorare l'efficienza energetica degli edifici che attualmente sono responsabili di circa il 40 per cento di consumo energetico ed un terzo delle emissioni di co2 rendere le case più efficienti è una priorità e le banche si allineano a questi obiettivi sostenendo chi investe in immobili green quindi per le banche un modo per essere più in linea con le politiche europee e allo stesso tempo per ridurre il rischio sul prestito giusto esatto giovanni le case con alta efficienza energetica non solo hanno un valore più stabile nel tempo ma tendono a rivalutarsi per la banca quindi è un investimento più sicuro e per chi compra per chi compra ci sono diversi vantaggi un mutuo a tasso agevolato bollette meno salate grazie ai consumi ridotti e un immobile che sarà più facile da rivendere o affittare in futuro in pratica scegliendo un mutuo green oggi non solo risparmi ma proteggi anche il valore del tuo investimento nel tempo proprio così scegliere una casa più efficiente è una scelta che premia nel presente e nel futuro e in più facciamo un favore all'ambiente esatto e aiutiamo l'europa a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità se vi è piaciuto questo video lasciate un like seguiteci per altri consigli sul mondo immobiliare e finanziario alla prossima alla prossima grazie giovanni ciao ciao ciao